Salve a tutti amici, sono Emiliano Babilonia. Ho appena finito di effettuare il montaggio di una delle registrazioni che ho effettuato con il professor Corrado Malanga. Ho anche delucitato al professore le mie ricerche e i miei test che sto facendo da molto tempo e che utilizzo un elettroencefalografo, un analizzatore di spettro e un misuratore di campo per vedere quale sono le frequenze che creano destabilizzazione fisiologica all'interno del nostro cervello all'interno delle nostre frequenze armoniche. Abbiamo riscontrato che vengono disturbate le frequenze del sonno durante la notte e che veniamo sottoposti a una specie di elettroshock inalternata che viene sparato di continuo sia attraverso i ripetitori radio, sia attraverso i satelliti, che sia attraverso le onde convogliate della corrente elettrica. Abbiamo riscontrato dai test che all'interno di una gabbia di Faraday queste anomalie scompaiono dal 50 all'80%. Parametro A. Non c'è dubbio che i campi elettromagnetici pulsati, quindi non fissi, producono una variazione sulla pineale di trasferimento di serotonina in melatonina e questo produce una serie di incascata formazione di endorfine particolari per cui il soggetto che ha questo tipo di operazione vede e si correla con l'universo esterno in un modo differente. Tutto ciò quindi che agisce sulla ghiandola pineale con queste caratteristiche altera la capacità e la sensibilità di vedere auditivamente, cenestesicamente e visivamente il mondo che ci circonda. Cosa sono questi parametri che vengono dall'esterno? Potrebbe essere la domanda. Sono i campi elettromagnetici del mondo che ci circonda. Sono tutto ciò che è volutamente spinto in quella direzione. Allora in questo contesto bisogna dividere il fenomeno in due parti. Primo, sì, i campi elettrici, elettromagnetici che noi abbiamo, i telefonini, i cazzi vari eccetera eccetera, alterano sicuramente. Sicuramente non c'è nessuna possibilità di dire che non è così, gli esperimenti ci sono, quelli sono le interpretazioni, c'è poco da fare. Ma la maggior parte di questi esperimenti e di questi campi elettromagnetici non è che volutamente vuole che tu ti rincoglionisca, volutamente non gliene può fregare di meno per il semplice motivo fondamentale, cioè una specie di teorema di Bell. Il teorema è questo, non puoi morire perché se no non mi compri più il telefonino, quindi io ti devo tenere in vita. Quando i fabbricanti di telefonini si sono resi conto di questo, hanno cominciato a provvedere perché i telefonini non facessero più male, questo ci fa capire come per l'industria è importante che il consumatore rimanga vivo, scemo ma vivo. Invece c'è un altro aspetto della questione, visto che questi fenomeni sono chiaramente utilizzabili per rincoglionire le persone, allora perché non farlo volutamente? Ma in questo contesto dove si deve andare a vedere? Nel campo degli alieni si è capito che ci sono i microchip nel cranio e questi fanno proprio questo lavoro, benissimo. Nel campo del sistema MKUltra sicuramente io posso sparare un raggio, una emissione sonora di un certo tipo, un'onda sull'esercito nemico, il quale l'esercito nemico diventerà coglione. Ma se uno pensa ad utilizzare da un punto di vista militare questa cosa, si rende subito conto che non ha nessun senso. Perché? Perché le vere guerre, quelle che si vincono e si perdono, non quelle finte che si fanno con i soldati. Quella è un'altra cosa. Le guerre vere, quelle che si vincono, non si fanno con i soldati, quindi non ha nessun senso creare un'arma che sparata contro una moltitudine di soldati te la rincoglionisca. Perché le guerre vere si fanno in un altro modo. Allora il rincoglionimento non serve per fare la guerra, ma serve solo per tenere la popolazione in uno stato di inconscienza. 2 più 2 fa 4, il ragionamento è quello, non c'è poco da fare. Ce ne eravamo accorti anche noi infatti di questa cosa. Allora da questo punto di vista non so se è lecito ora poter discernere tra quello che noi abbiamo visto che fanno gli alieni e quello che supponiamo facciano gli alienati, cioè i nostri governanti. Quello che si può dire, che si può dimostrare sicuramente è che nessuno può farti niente se la tua coscienza è sufficientemente elevata per comprendere che esiste questo fenomeno e per comprendere la natura. Te sei il creatore dell'universo, a te non ti fa niente nessuno, ma se te sei rincoglionito allora ecco che questa fenomenologia ti può attaccare. Quindi non basta da questo punto di vista avere una ARP che ti spara delle onde che vengono poi rifrate nell'atmosfera, ti tornano giù e fanno qualcosa. Non basta, bisogna che ci sia dall'altra parte la televisione che ti rende scemo. Allora e solo dopo le onde ARP ti faranno qualcosa. Questo concetto fondamentale prevede che nel contesto in cui il potere ti vuole governare deve prima di tutto, prima di fare qualsiasi cosa tecnica e scientifica, fare in modo che la tua consapevolezza non cresca. Il resto è facile perché si fa con la tecnologia, ma prima devi vincere la consapevolezza, cioè la coscienza che hai dentro di te. Però com'è che quando noi facciamo le analisi nella gabbia di Faraday o in stanze aniconiche, abbiamo notato che praticamente le persone migliorano proprio di umore? Non c'è un bra di dubbio, perché in ogni caso tutto quello che è onda elettromagnetica che produce questo tipo di operazioni non c'è più e quindi la tua ghiandola pineale respira dell'aria buona, come per dire, cioè se ha bisogno di melatonina se la fa, se ha bisogno di serotonina se la fa. No che se non hai bisogno la ghiandola pineale viene pompata a farla lo stesso. Certo, è il corpo che automaticamente, come se si difende anche da questi attacchi, perché piano piano il cervello incomincia ad avere dei disturbi e dice ma perché io sento questo malessere e il corpo dice e non riesco a toglierlo questo malessere. Noi abbiamo persone che non dormono più, abbiamo fatto con l'elettroencefalografo delle analisi durante la notte, non scendono più nell'ora REM, non riescono più a scendere nel sonno profondo e noi abbiamo detto voi state in dormiveglia e durante il giorno entrate in narcolessia, in ipnosi e vedete allucinazioni, sentono suoni. Certo, certo. Ci sono dei lavori di un signore che si chiama Mac Nelly che ha studiato questo tipo di cosa e un altro signore che si chiama Persinger, però questo signore che si chiama Persinger che ha scritto una trentina di lavori ed è un neurofisiologo che ha lavorato per la marina americana e per l'università canadese, mentre Mac Nelly è un professore dell'Harvard University, hanno scritto dei libri, i loro anche studenti, cercando di dimostrare che se tu dormi vicino a un filo della corrente elettrica sogni la madonna che ti viene a prendere, oppure i piccoli grigi che servono a fare qualcosa. Quindi in realtà non è così, ma è anche così, cioè come si fa a rendere una cosa, una bugia vera? La bugia deve essere più simile alla realtà possibile, perché allora diventa indistinguibile dalla realtà se non sotto un attento esame e quindi diventa vera. Per cui cosa si fa con i crop circle? Si costruisce davanti ai crop circle 60 crop circle finti, così tu non riesci più a distinguere quello finto da quello vero. Cosa si fa nel caso di Ustica? Si tirano fuori 60 teorie differenti, così te alla fine non ci capisci più niente. O con il caso di Roswell, dell'abbattimento dell'uffo famoso di Roswell. Quindi la verità non può essere nascosta, cioè non detta, deve essere nascosta tra mille bugie, perché quello è il sistema di Internet. Su Internet c'è scritto tutto, solo vai a cercare a capire qual è quella vera e quella falsa, diventa un casino. Allora, per esempio, nel caso delle radiazioni elettromagnetiche si comprende esattamente come c'è scritto tutto e il contrario di tutto, ma da un attento esame della letteratura si vede che il campo magnetico fisso non fa niente, è la variazione di campo magnetico che produce il casino sulla ghiandola pineale. È vero, è vero. Ma queste variazioni del fatto delle frequenze della risonanza di Schumann, della fondamentale, che diventano quasi simili alle frequenze cerebrali, c'è un'interazione secondo lei? Certo che c'è un'interazione. L'interazione è dovuta al fatto che la fisica quantistica dimostra che c'è un entanglement tra tutto. Cioè, anche se uno mi sta pisciando in Alaska in questo istante io sono interagito con lui. Da questo punto di vista è chiaro che io, siccome sono una lunghezza d'onda, sono una vibrazione, sono un seno di Omega T più Phi e mi mettono in un campo in cui c'è una portante, la mia portante nel bene e nel male mi può fortemente interagire o debolmente interagire con me. Dipende dalla mia onda e dalla sua onda, se hanno cioè energie comparabili. Cioè, se sono tutte e due hard o tutte e due soft, si direbbe, perché se una è hard e l'altra è soft non si vede granché. Ecco, è evidente che quindi, siccome le energie che noi mettiamo in gioco nel nostro universo sono comparabili, e in che modo? Sono comparabili perché influiscono, soprattutto con le loro armoniche, con le energie delle cellule, sostanzialmente. Quindi, perché un'onda elettromagnetica dovrebbe provocare il cancro? Perché provoca il cancro? Provoca semplicemente il cancro perché un'onda elettromagnetica è un'oscillazione. L'oscillazione o una sua sottoarmonica produce una vibrazione del legame carbonio-idrogeno e invece di farlo vibrare così lo fa vibrare più lentamente. Questo vuol dire che la velocità di reazione di quella molecola cambia. Cambiando la velocità di reazione cambiano le possibilità di reazioni. Alcune diventano velocissime, alcune diventano lenti. Quindi, per esempio, il processo cancerogeno tumorale che noi abbiamo sempre nel nostro corpo in continuazione, diventa veloce rispetto a quando prima invece era lento e poteva essere combattuto dal sistema immunitario del corpo. Facile. Quindi è evidente che le cose stanno in questa cosa qui. Però bisogna dividere i cattivi dai cattivissimi. I cattivi sono quelli che ti vogliono vendere un prodotto, il telefonino, che se ne strafottono sostanzialmente di te. Magari te puoi anche avere il tumore, basta che compri il telefonino. Anzi, se ne compri due o tre è meglio. E l'altro che invece vuol mantenere la popolazione sotto un suo controllo preciso e che quindi lo fa deliberatamente. Questi due aspetti si sommano tra di loro e la popolazione non ci capisce più niente.